bella a tutti ragazzi prima di andare a vedere il video voglio ricordarvi il mio codice creator xyuderone grazie mille per il vostro supporto attenzione ogni 14 giorni scade quindi non dimenticatevi di controllare se ce l'avete e ovviamente mandatemi una storia su instagram uno screen quello che volete io vi reposterò ma adesso video signori fortinite mi ha formato in anteprima delle skin ed eccole qua ragazzi le skin che arriveranno per voi credo da domani e ce ne sono ben quattro ce ne sono allora la prima è questa signorina conny carrot campana che la signor nilia vediamo signora nilia ragazzi figo solo un pump vigliacco vieni a fight armi invece che scappare vigliacco poi veloci raptor dio caro il veloci raptor ma cos'è che stai facendo ma cioè devo litigare con i veloci raptor dove si scannano mi butto mi butto nel fight mi butto nel fight mi butto nel fight andiamo 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 and no 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 cosa stavo facendo questo yeah 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 andiamo raga lol secondo me secondo me a foresta non ci sono i lupi a foresta non ci sono i lupi non ce la faccio sono basso iscriviti al nostro canale ok andiamo 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 bravo andiamo 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 let's go due di fila un altro cinghiale niente da fare figa nuota pesante che nuota 1v1v1 entra entra un altro cinghiale 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 un altro cinghiale